No, no, chi parla? Mi genio? Giogis Siamo partiti Si è attivato a sta live Si è attivato a sta live No, anche Niccolò si sente male Sta male E' attivata la live Si, siamo in live Sto inviando Perché la sono inviata a Giogis Non ho capito cosa Cosa, non ho capito Ho sparato a Giogis Davide, però secondo me oggi anche Giorgio ha scorreggiato Ah Bello Si oggi è vero Io ho il cecchino però Quando è che entra Giogis? Giogis Va bene, va bene Ah certo Adesso chiediamo a Giogis Hai due geni? No No Si Io una volta Io una volta ce l'ho fatta Però non c'era un genio Con tanto tempo No Io vengo Io vengo Si Quella è eugenica Perché cadono i geni Fortnite Vabbè No Non è vero Io 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 però non si vede se l'alzo Quindi alzo i geni Eh Giogis si sta male Giogis si sta male No Giogis mi ha blocco Giogis mi ha blocco Si La dovevo portare in ambulanza La dovevo portare in ambulanza No Di che avevo bloccato Davide Hello Motherf*** Ti abbiamo bloccato Giogis Vero Perché ti ha bloccato Perché le hai prese in giro No Vabbè Ancora Non c'è stato No No di ieri ma ieri ma fino a 1 ora in live mentre voi mentre voi la prendevate in giro e in live giochi sono ieri no ora ora forse di andrea non lo so no ora ora io dico ora ora no cioè io fino al secondo fai l'ho sbloccato allora ripeto lui per l'ultima volta ieri ero in live e lei c'era e io fino a stamattina che ha sentito a mezzo che ha bloccato capito ma io fino a mezz'ora fa ero sbloccato fino a mezz'ora fa come il genio sì perché a voi lei mi lei non è sempre online su whatsapp e quindi ti blocca così è arrivato subito c'è entrata ma dico ora ora l'ho fatto ora ora l'ho fatto ora perché perché forse c'era il telefono scarico e ora ti ha bloccato proprio ora che il polizio c'è la polizia la polizia che è il genio vedi il genio ciao batti 5 batti il genio ma c'è anche daniele fede vero è a jujitsu ecco ma è a jujitsu aggiungiamo mangiata aggiungi su aiuto aiuto persone strane persone strane ci sono ciao grazie tieni nico c'è il pompetto arrivo dai mi aiuti andri è qua sto sparando andrei dai uno contro uno davide pure tu e l'aiuto oh mi rianima miglior di riani a milioni aspe prima mi cura io andrea c'è federico c'è federico andrea è un attimo prima prima mi faccio il coso ma veramente è un genio veramente ci arriviamo ora ci arriviamo cioè quello quello sa con la scheda io sono qua per terra e lui si fa il medici grande vai scar è mio non mi interessa dove sei ma lì eccolo andiamo a rianimarlo giorgis maledetta nooo non ti possiamo rianimare dobbiamo andare qua no c'è rimasto in 10 ma dai cioè non ci capiterà mai più madonna scar d'oro non l'ho trovato mai perditi lancia razzi baby babi prenditi lancia razzi anche lo scarri fa migliore bevicio già andiamo aiutando a noi andiamo qua 9 9 9 di tutti i mazzi mamma no no non possiamo più rianimarlo mi dispiace bene eh sì sì no ora che ora sono no avete colpiti lancia razzi e io sì io sì tantissimi wow guarda dov'è guarda dov'è il furgone no no si erano messi qui nel trailer qua come lo vuoi ha una piedina mi ci voglio rimettere avanti mi voglio rimettere ah no era lì ah no scherzavo era lì era lì era lì mi butto mi butto no scherzavo 10 persone però non siamo più in qua in realtà le persone sarebbero in quattro ma noi siamo in due sarebbe coppia ah persona arrivo io a terra vabbè un persona c'era grazie 4 kill ok raga ma sono messi bene ah persona persona un'altra persona eccolo lo sapevo anche un altro lì bro bro andrea 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 aiutami arrivo a terra arrivo un what 5 5 persone andrea 5 persone peccato però se eravamo se eravamo con fede vabbè però una c'è un high drop caccia una persona almeno lì ci siamo noi a terra no uno mi ha colpito andrea no andrea 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 ma di rianimami no costruisci 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 ecco costruisci rianimami rianimami no costruisci costruisci tu stai tranquillo tu sei due persone 1.1 posizione finale 2 peccato si salta c'è ancora sto scimonito lo sai cosa devi fare di cliccare formazione di cliccare le due e di cliccare triangolo non l'ho fatto io devi cliccare le due cliccare le due e poi triangolo e poi triangolo salve di nuovo perché perché sono salta il genio saura andri che c'è vai a sparire sto scemo ci ha fatto bugare tu ti salta andrano vuole ritornare con x vabbè io abbandono con x ma sto abbandonando come se tu entro vieni eugenio kingo venga l'ultima partita che andiamo su gta che io vado su gta marco ado mi ha chiesto se può giocare marco 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 mar